Ci sono problemi che abbiamo periodicamente tutti, siamo stressati, abbiamo mal di testa, non riusciamo a concentrarci, abbiamo le difese immunitarie basse, siamo sempre stanco, abbiamo difficoltà a dormire o a digerire. Questo tipo di problemi trova una soluzione molto molto antica nella medicina tradizionale cinese. Infatti tanto tanto tempo fa alcune persone hanno capito che premendo determinati punti all'interno del nostro padiglione auricolare andiamo a stimolare determinati punti all'interno del nostro corpo. Questo metodo stimola il rilascio delle endorfine da parte del cervello che vanno a concentrarsi proprio su questi punti. Quindi possiamo effettivamente ridurre mal di testa, stress, insonnia, problemi digestivi, problemi di concentrazione semplicemente premendo dei punti specifici all'interno del nostro orecchio. Come dicevo questo è un metodo che fa parte della medicina tradizionale cinese. In Italia se ne sente veramente poco spesso parlare ed è un peccato perché io sono super fana di questi metodi naturali per combattere problemucci di tutti i giorni. E anche quando se ne sente parlare in realtà facciamo riferimento appunto dei centri estetici o dei centri di medicina tradizionale che tendenzialmente sono anche costosetti e sicuramente non si trovano da tutte le parti. Questo è proprio il problema che si è promesso di risolvere i Beauty Seeds un'azienda con cui questo video è in collaborazione che ha reso questi metodi di medicina tradizionale cinese alla portata letteralmente di tutti. Io ho ricevuto i loro prodotti e li sto testando da circa una settimana e ne sono veramente entusiasta infatti li sto utilizzando anche in questo momento. Per realizzare questa tecnica il cui termine specifico è auricoloterapia avremo bisogno soltanto di questi semini e della pratica guida che ci viene fornita al momento dell'acquisto. Questi appunto vengono chiamati semi, arrivano in una confezione sterile e sono adesivi. Quindi noi con le pinzette andremo semplicemente a prendere uno dei semi e lo andremo a mettere in una delle zone appunto all'interno della strappadiglione auricolare specifiche per il problema che vogliamo risolvere. Sembra complicato ma in realtà non lo è assolutamente veramente alla portata di tutti perché insieme al vostro acquisto vi arriverà anche la guida da scaricare con tutte le istruzioni che sono necessarie per iniziare questo percorso terapeutico e di benessere nell'autonomia e nella comodità di casa vostra. Una volta attaccati i semi dove voi li vorrete applicare per ottenere i benefici che vi interessa li potete tenere lì fino a 5 giorni, non si staccano con la doccia io come vi dicevo li sto già provando da svariati giorni e l'adesivo è veramente ottimo restano attaccati senza problemi e ciò che bisognerà andare a fare è semplicemente qualche volta durante il giorno andare a premerli tutti per svariati secondi questo attiverà i semi e ci porterà i benefici di cui avevo parlato prima quindi appunto andrà a stimolare determinate aree all'interno del nostro corpo che poi ci daranno delle risposte in base a quello che vogliamo ottenere quindi potrebbe andare a stimolare la digestione in caso di problemi digestivi oppure il rilascio di endorfine in caso appunto di stress o malessere generale questo metodo per me è stato veramente veramente bello oltre al fatto che non è il loro principale scopo ma per me è chiaramente un punto aggiuntivo sono veramente belli da tenere, a me piacciono tanto sono quasi un accessorio distintivo perché nessuno li ha e sono veramente carini tra l'altro ci sono chiaramente sia così, diciamo colore argento, sia dorati per me l'efficacia è provata, io stessa ho sentito l'efficacia su di me e è proprio un bel momento anche da prendersi durante una giornata anche svariate volte durante la giornata di fermarsi un attimo e schiacciare i semi che abbiamo applicato all'interno del nostro orecchio fare qualche respiro e si sente subito la differenza io mi sento di consigliarveli, questi sono metodi come dicevo molto antichi e se sono sopravvissuti fino a noi io penso che ci sia un motivo chiaramente e sono veramente grata a realtà come i beauty seeds che ci permettono di scoprire, ci permettono di usufruirne in modo comodo in modo economico e in modo sicuro e consapevole quindi io vi consiglio assolutamente di provarli fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete già provati se li proverete o se avete provato in generale l'auricoloterapia per sapere quali sono anche le vostre esperienze per me i rimedi naturali sono la prima cosa da provare in caso appunto di disturbi lievi come possono essere le emicrane piuttosto che tutto quello che ho citato da qui all'inizio del video proprio perché non vanno ad agire internamente al nostro corpo come potrebbero fare i farmaci antidolorifici, antinfiammatori anche leggeri che comunque noi ingeriamo a livello digestivo sappiamo che non sono mai leggeri e sarebbe sempre meglio non abusarli in questo caso invece parliamo di un metodo naturale e totalmente sicuro che potrebbe risolvere i vostri problemi a lungo termine senza più dover ricorrere all'utilizzo di farmaci quindi per me è una cosa che andrebbe assolutamente provata perché funziona, io lo sto sentendo che funziona in particolare io lo sto utilizzando per stress e ansia per difficoltà di concentrazione e in generale per riequilibrare quello che è tutto il mio fisico perché ci sono sia dei punti specifici per problemi specifici in cui poter andare ad applicare i semini ma ci sono anche dei punti come si chiama ad esempio questo qua sopra in cui ho messo questo seme qui invece non sono specifici ma servono ad andare a riequilibrare tutto quello che è il nostro corpo quindi per me sono assolutamente promossi fatemi sapere se li proverete assolutamente noi ci vediamo al prossimo video ovviamente vi lascio il loro sito, la loro pagina Instagram qua sotto nella descrizione se volete seguire anche me su Instagram mi fa super super piacere grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao